Doppio appuntamento nella nuova piazza intitolata ad Angelina Zampieri a Belluno. È ora ufficialmente operativo il nuovo Urban Hub Contamination Lab Belluno Dolomiti, uno spazio dedicato alla contaminazione digitale a disposizione di studenti, imprese, associazioni e cittadini, nato grazie al progetto di rigenerazione urbana con la collaborazione del Lanci Nazionale e del Centro Consorzi, spazio riconosciuto al contempo quale palestra digitale del progetto Innovation Lab Dolomiti con a capofila il Consorzio Bimpiave. Spazio è stato pensato soprattutto per due esigenze, dall'altro la possibilità di incontro, dall'altro la possibilità di studio e di creazione. Qual è l'obiettivo? Quello di far uscire i giovani, farli incontrare, far sì che questo incontro diventi competenza e trasmissione di conoscenze e ultimo che da questo diventi una funzione sociale, quindi anche la possibilità di trasmettere questa conoscenza utile per tutta la società. Come detto, nell'occasione dell'inaugurazione dell'Urban Hub si è tenuta la consegna delle certificazioni Family Audit nell'ambito dell'accordo stipulato tra il Consorzio Bimpiave e la provincia di Trento, con la collaborazione di enti e associazioni, una progettualità che mira a valorizzare le politiche di conciliazione vita-lavoro, premiate in questo caso amministrazioni e realtà private, ossia il Comune di Feltre, la provincia di Belluno e l'azienda Feltrina per i servizi alla persona, nonché cinque imprese bellunesi, Bauternemung, la cooperativa di Cortina, Manifattura Valcismon, Meccano Stampi e Società Nuova Cooperativa Sociale. Un'iniziativa portata avanti dal Consorzio con entusiasmo insieme agli altri enti locali su promozione del Comune di Feltre e mira sostanzialmente a portare una serenità aziendale in collaborazione fra datore di lavoro e dipendenti.